Ci saremo anche il primo dell'anno, il primo gennaio. Polifemo, l'occhio di Abate, vuole dare insieme a voi il benvenuto al nuovo anno. Una puntata particolarmente ricca in cui nella prima parte ci occuperemo della inaugurazione della cinquantesima rassegna internazionale di pittura città di Mottola, organizzata da Giovanni Rogante, 500 opere esposte, una quantità davvero enorme di quadri e una grande qualità soprattutto. Nella seconda parte ci sposteremo a Faggiano per il presepe vivente di Faggiano che è stato insignito, per così dire, del premio qualità, chiamiamolo così, come migliore presepe vivente italiano. Beh, è davvero un orgoglio per noi potervi far vedere queste immagini, commentare con il presidente dell'Associazione per le tradizioni popolari di Faggiano, il dottor Angelo Tanzarella, dicevo poter commentare le varie postazioni del presepe vivente. Poi, infine, l'ultima parte dedicata al mondo del sindacato, al mondo del lavoro, raccoglieremo i giudizi dell'USB, dell'Unione Sindacale di Base di Taranto, relativamente alla situazione lavorativa, occupazionale e ambientale di Taranto per il 2015, lanciando degli input, considerando appunto gli auspici per il 2016. Una puntata ricchissima, una puntata che andrà in onda, abbiamo detto, il primo gennaio, primo gennaio, ore 21, viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre, e poi in replica, come al solito, la domenica, alle ore 14.30. Non vi resta che mettervi comodi in poltrona, canale 93, e Polifemo sarà con voi. Buona visione.